Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi, mercoledì 27 aprile 2016 in diretta come sempre sul 17, il canale di Fano TV. Allora cominciamo dal santo del giorno, oggi è Santa Zita, attenzione perché è una santa che è diventata patrona, Pio XII la proclamò patrona delle domestiche, è una storia molto bella di povertà certamente, ma una storia molto bella. Zita di Lucca è nata nel 1218, il cielo, il sole è sorto alle 6.04, tramonterà alle 20.07. Dicevo il cielo oggi sarà sereno, poco nuvoloso con le temperature che saliranno nel corso della giornata. Per domani inizia la fase del peggioramento, vedete giovedì 28, mattino ancora poco nuvoloso, poi il pomeriggio peggiora, con temporali e anche rovesci. Le temperature sono in diminuzione, tempo che continuerà ad essere perturbato anche nella mattinata di venerdì, poi il pomeriggio migliora, ma migliora temporaneamente perché non si esclude che l'instabilità atmosferica sulla regione Marche possa proseguire anche nei prossimi giorni, quindi rovinare anche il primo di maggio. Andiamo a leggere i giornali, cominciamo dal resto del calino, la pagina di Fano, eccola qua, frigo saccheggiati all'asilo Manfrini, la scuola di nuovo nel Mirino, nuova incursione notturna, protestano le mamme, Balordi fanno razzia di gelati, pensate, polemiche sui lucchetti che vengono chiaramente giudicati a questo punto ridicoli, visto che è considerato che entrano ormai, possiamo dire, quasi tutte le settimane. L'assessore Mascarin dice, sembra proprio un dispetto, interverremo con un sistema d'allarme. Poi invece la cronaca da Sant'Orso, il quartiere di Fano, cade dal letto, la figlia non sente, l'anziana madre è stata soccorsa dai vigili del fuoco che hanno sfondato la porta, questa donna di 88 anni che dalla sua camera da letto urlava aiuto, aiutatemi, la figlia che stava lì vicino non ha sentito, aveva i tappi le orecchie, insomma alla fine sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sempre dal resto del carlino, la pagina di Fano, cade una persiana sopra la testa di un'anziana che era in bicicletta, l'infisso è precipitato da un'altezza di 3 metri, è stata visitata al pronto soccorso, sta bene. Piscina di Nisalvalai archiviate le diatribe legali, ora si nuota, finalmente il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento della Sport Management verso Ricci, la Sport Management che aveva prima in gestione appunto la struttura fanese. Da Fossombrone, con noi niente segreti e tutto per la gente, il candidato dei 5 Stelle si presenta e promette il cambiamento. Bancarotta da San Costanzo, i marchionni parteggiano, la villa servirà a pagare i tanti creditori, si chiude la vicenda penale degli armatori della CAM. Nessun pellegrinaggio per abortire, il dottor Cicoli risponde a Carla Luzzi, ci sono obiettori ma il servizio è garantito. Adesso apriamo invece il Corriere Adriatico, la pagina principale, l'edizione di Pesaro e di Fano, cade la tragedia che è avvenuta ad Ancona, cade dal triciclo, muore a 14 mesi, visitato e dimesso prima dal Salesi, poi un nuovo malore a case e infine il coma per il piccolo Leonardo, un bimbetto di 14 mesi che appunto passeggiava felice sul suo triciclo, poi è successo tutto in un attimo questo triciclo che frena il piccolo che finisce contro un palo e batte la testa. Il sorriso che si spegne viene accompagnato al pronto soccorso del Salesi, sembra una cosa da niente, torna a casa però purtroppo è solo un inganno del destino che poi vira verso il dramma e purtroppo il piccolo non ce l'ha fatta. Questa è la prima pagina del Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro e Fano, le pagine interne, imprese, mafia, guardia alta, le associazioni degli industriali e degli artigiani chiedono la massima allerta, appello agli iscritti, non abbiamo particolari segnalazioni ma l'invito è quello di denunciare qualsiasi tipo di infiltrazione in azienda. Colpito a Urbino, un uomo che è stato colpito da una motosega grave, tagliava la legna quando l'attrezzo gli è piombato sul piede che rischia ora di perdere, l'uomo che ha 83 anni è stato ricoverato al Torrette di Ancona e sottoposto ad un intervento chirurgico per salvare l'arto. La pagina di Fano del Corriere, ancora tagli per i servizi sociali, in consiglio dibattito sul bilancio di previsione nel 2015 un avanzo di 14,8 milioni di euro. Comitati contro l'ospedale unico, il coordinamento di 13 associazioni si riunisce questa sera a Fano, puntiamo ad Ancona, May segnala che in 15 anni la spesa del settore in regione è quasi raddoppiata mentre i servizi sono stati ridotti. In 7 anni il debito è stato abbattuto del 43%, qui siamo a Pergola, nessun aumento di tariffe e servizi mantenuti, il sindaco Baldelli presenta i bilanci consuntivo e preventivo. Ad un mese dalle amministrative a Mondolfo invece pronte le liste con i 64 candidati, unica è la civica del centro-sinistra che domani presenterà la sua squadra. Le scuole anche a Senigallia, nel Mirino, terzo furto in un mese, Alda Rodari scassinate ancora una volta le macchinette del caffè e delle bibite, un bottino di pochi spiccioli e naturalmente tanti danni come avviene in questo caso. Poi sotto invece la notizia della morte a 108 anni della nonna più vecchia delle Marche, Ermelinda Girolametti, conosciuta da tutti come Armanda, ha trascorso una vita nella campagna di Ponterio, respirando aria buona, mangiando alimenti sani, coltivati vicino a casa e quindi questa può essere già una ricetta insomma per vivere a lungo. Insomma un vero record di questa nonnina originaria appunto, come dicevo, di Ponterio di Monterado nel comune di Trecastelli. Funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Ponterio, dove la salma è arrivata partendo dall'ospedale di Fano. Andiamo adesso sul resto del Carlino, questa è la prima pagina, la fotonotizia è per il concorsone della scuola, dal 2 maggio prossimo si inizia con la prova scritta. Parla un precario che è anche avvocato, faccio supplenze, dice da 20 anni. Il titolo caccia alla cattedra, sopra invece la storia che arriva da Pecchio di Dick, che è un cane che si tuffa e salva il puledrino, la favola bella dei due cuccioli. Il cane allerta il padrone e si getta nel gorgo dove il cavallino annegava, stava annegando. Le pagine interne invece del resto del Carlino le abbiamo già viste. Andiamo adesso sul messaggero. Ecco qua la prima pagina, prima gli ospedali unici, poi via. Questo lo dice Ceriscioli, il governatore delle Marche, nel senso la sanità andrà ad un assessore, lascerà la delega ad un assessore dopo aver varato la fusione tra Pesore e Fano. Al servizio salute Costa, al posto di Ciccarelli. Poi parla anche dell'inchiesta che è in corso, dice siamo sereni. A centro pagina il delitto ferri, oggi è il giorno della verità. Frecce tricolori invece voleranno nel giorno del Paglio dei Braceri. Stiamo parlando del 31 luglio a Pesaro, che è quello che è stato già definito come il Pesaro Air Show. In quella giornata se il calendario verrà confermato, come sembra ci sarà la sovrapposizione appunto con un'altra manifestazione che richiama sempre tanta gente, cioè il Paglio dei Braceri. Mentre a maggio, il primo di maggio, l'anno scorso a Pesaro c'è stato un concertone in spiaggia con 5.000 giovani e meno giovani che hanno riempito la spiaggia di Ponente in fondo a Viale Trieste. Quest'anno si ritorna, ritorna a questo mega concerto che appunto l'anno scorso ha riunito tanta gente. Il primo di maggio dunque in spiaggia con questo splashdown. Quelle 21 telefonate di Papa Francesco alla famiglia Ferri, oggi ad Ancona il processo d'appello per l'omicidio. Il fratello Michele dice andremo con gli amici, siamo fiduciosi. Il pontefice è sempre stato vicino alla famiglia della vittima, l'ultima chiamata alla mamma di Andrea Ferri e l'11 di aprile e dicono ci dà tanta forza. Ancora tanti turisti per Valentino Rossi, ma la terra dei motori è ancora tutta da inventare. La regione Emilia-Romagna non riesce ad averlo come testimonial. Anche il progetto pesarese però incontra ostacoli a partire dal nome. Il dottore è tornato a Tavuglia, il sindaco Paolucci dice andiamoci piano con i programmi e i festeggiamenti. La stagione è ancora lunga. Poi la pagina di Fano, per chiudere, lei da battaglia ai ladri sui social network, loro tentano di derubare la madre. La mamma di Letizia Conter, di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, è stata presa di mira da due truffatrici. La donna però ha capito tutto e si è messa in salvo entrando all'interno dell'Ocean. E' in gamba, dice lei, e ha saputo difendersi. Mentre appunto la vice segretaria del partito, Conter, ha lanciato la pagina Facebook di controllo del vicinato. Porto passi in avanti verso il dragaggio. L'ultimata, la cassa di colmata d'Ancona, che consentirà di accogliere anche i fanghi dragati nel porto di Fano. L'ultima notizia, rivoluzione nei servizi per disabili, famiglie in allarme, le associazioni temono che molti non possano permettersi le nuove rette. L'assessore Barnesi risponde, adottiamo solo criteri di equità. E' tutto, grazie per aver seguito la nostra segna stampa. Occhio giornali torna domani mattina, il telegiornale invece stasera alle 20.30, sempre qui sul canale 17. Arrivederci. Grazie a tutti.